Linea adriatica in tilt per quasi due ore, treni che hanno accusato ritardi dai 20 ai 100 minuti, viaggiatori impazienti attesa di proseguire le loro corse. Sono gli effetti pesantissimi di un investimento mortale avvenuto stamane alle 9.55 tra Fano e Pesaro. A perdere la vita è stato un 52enne di Cattolica. Si tratta del terzo incidente del genere in poche settimane. Oltre all'uomo deceduto questa mattina, un giorno il senegalese in precedenza aveva perso la vita nella stazione di Fano, dove qualche giorno prima era rimasto ferito anche un medico dell'ospedale Santa Croce. Secondo quanto ha potuto ricostruire la polizia ferroviaria si tratterebbe di un gesto volontario. Il cattolichino avrebbe infatti lasciato la sua auto a ridosso della linea ferroviaria, scavalcato la recinzione all'arrivo del convoglio, un treno merci vi si sarebbe parato davanti. Inutile ogni tentativo da parte del macchinista di fermare il treno che ha travolto l'uomo e l'ha ucciso. Un investimento che ha creato pesanti contraccolpi sull'intera linea ferroviaria adriatica. I treni che hanno subito ritardi e ralentamenti sono stati quattro freccia bianca, dai 20 ai 100 minuti, due intersiti 45 ai 60 minuti e quattro regionali tra i 30 ai 90 minuti. Altri due convogli regionali non hanno completato il percorso. La circolazione dei treni lungo la linea adriatica è ripresa poi intorno alle 11.40 ma su un solo binario.